l'ingresso Rissa è lei subito partiamo subito con le cure ok visto sono due, dov'è il secondo? visti adesso erano un po' lontanini ma sono riuscito a uccidere lo stesso ottimo c'è altra gente qua aspetta che qua sta sparando tutto ah l'ho vista ok il mio mondo per un jetpack ma con chi? chi cazzo è che mi stava sparando? ah ecco che cazzo mi stava sparando eh sì on your asses proprio ok ok come cazzo allora ci arrivo là sopra senza jetpack di nuovo rumori che non mi piacciono eh sto pensando con quel cazzo entrare vabbè proviamo a entrare così ok qua non c'è nessuno strano intanto mi cuore ok oh bella mi piace questa ah eh la sapevo io e io azzo ma è andata l'altra sei svegliata? c'è un di soldi per terra ok non c'ho più cose ahia ahia maledetto maledetto eh vabbò da dove? allora aspetta un secondo una cazzo di arma un po' più potentina si può avere? no ma questa fa male ah ma questa non mi serve un pifero ma questa cosa puoi fare esclusivamente se se sei lontano perché è troppo potente sta arma ok ancora? ok ah ok aspettate allora che facciamo così bene bene un colpo solo ma bello in canna che cazzo ho fatto? che cazzo ho fatto? spiegatemi no allora aspetta era quello che stavo cercando di fare assomiglia a nemici no strano c'è anche qua che dobbiamo andare però ah siamo qua dall'entrata ok si siamo qua dall'entrata che poi in realtà non è che ci sarebbe un arca troia mi è partito il dito eh vabbò si vediamo cosa ha fatto A però da dove? da dove? da dove? ok eh sì però non c'ho il jetpack sempre non ce l'ho non ce l'ho bene guarda qui ok benissimo cazzo no madonna che cazzo di morte stupida che ho fatto via 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 ah va bene va bene aspetta un secondo via 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 cioè se vuoi venire qua fallo pure venire ok 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 adesso c'è un altro dai rispunta ciccio dai che ti ho visto credi dove cazzo sei ah dai perché non rispunti perché non c'ho un jetpack no anche qua muoio pesantemente oh cazzo si riuscissi ad averci le cose sarebbe anche bello non so assolutamente dove devo andare ragazzi ma proprio zero qua proprio non so dove devo andare forse devo riscendere riscendiamo è che il problema è che non posso non posso neanche per dire colpire cioè è un casino qua praticamente sì sale in su quindi va bene qua si esce cazzo cazzo beh lol che cazzo ho trovato adesso di buco qua qua niente che cacchio ho aperto qua posto segreto vabbè sono contento che mi è entrato a un posto segreto però non era voluta in questo caso io vorrei capire come cazzarono a fare ad arrivare lì oh cazzo finiscila non so proprio dove cazzarono a fare aspetta che ci troviamo ok proprio qua boh fisica notturna non non so dove andare sono sincero ragazzi cioè dove cazzo come cazzo ci arrivo nelle cose e tu finisci a dirompere le palle dai su spunta da qualche parte arriveranno tutte queste qua io non so da dove cazzo arrivino c'è deve essere qualcosa che devo fare qua in questa zona qua devo trovare forse qua non ci posso cioè qua muoio malissimo proprio e lassù potasse che ci sia qualcosa ma non c'ho il jetpack dove cazzare la vado senza jetpack c'è tipo ad esempio lì davanti come cazzo ci arrivi come cazzo ci arrivi si lo vedo però attenzione ha funzionato ma non mi dire che potevo accedervi anche da qua sopra porco tu ti prenderei a schiaffi van ci potrebbe anche stare potrebbe anche essere ottima come cosa essere autopreso a schiaffi da me stessa ok visto aia brodo visti ma non ti cazzo sono dove cazzo sono spuntati questi qua ancora sento un maiale ah l'ho visto a parte che sei anche minchione perché stai sparando aia che fatica e fin qua ok ora come cazzo ci arriviamo di là anzi no non ci arrivo più di là sicuro come voglia non ci arrivo più di là vabbè che caccare anche te che hai rotto le balle non c'ho più vita però c'è l'arbor non so quanto la tiene la vita perché tecnicamente dovrei andare da questa parte adesso cioè lanciarmi malamente qua oh e poi lanciarmi malamente lì ok che fatica fatica cosa sta parte no 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 non so se devo andare fino a su ma che poi soprattutto perché stiamo andando così io vi giuro che non ho ancora capito dove cazzo dobbiamo andare vi giuro non ho ancora capito jetpack non abbiamo non l'ho proprio ancora capito dove cazzo dobbiamo andare ma va bene ok no porca merda che nervoso che nervoso continuo a sbagliare che nervoso quando faccio così e non è così facile c'è da dire comunque cioè per niente cazzarola non è per niente facile no e niente però non mi sono fatto male non mi sono fatto male però attenzione va bene ok scusate stavo respando un messaggio ok dobbiamo registrare quel buon shepardino allora c'è poco c'è poco spazio quindi devo fare molta attenzione quando salto no eh vabbò eh vabbò tanto tanto per tanto se mi devo uccidere mi uccide per bene no? mi direte che minchione eh vabbò allora dai che ce la possiamo fare a finistro di valle sento non parto è lunghissimo sta parte qua ok 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 dove riappari wow che paura cazzo no no ti prego aspetta aspetta c'ho quello che posso usare esatto questo dove sai non c'è più scomparso aia eh che tu coglioni spaccati eh dai bravissimo cazzo se mi bacca uno solo col col loro sono morto sono morto è proprio farmi uccidere da loro o no mi scoccio c'è il jetpack c'è il jetpack oh no aspettavo ci fosse qualcosa qua dietro ah qua dietro c'è qualcosa la chiave rossa eh vai affambrodo via 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 VITA! Guarda che ansia! Cosa è quella? NUKEN! Ma non posso uscire? Non posso uscire infatti. Minchia sei di vita ragazzi! Mamma mia!